Attenzione ragazzi, attenzione perché oggi il video si divide in due blocchi. La seconda parte, pagelle, come al solito, andremo a vedere, ci sono dei voti pesanti, ne andremo a parlare. Prima parte, una cosa che non ho mai fatto e che non faccio mai, perché chi mi segue, quei pochi ma buoni che mi seguono, sanno che non parlo mai di altri, mi faccio i cavoli miei, guardo il mio, non mi interessano degli altri. Però, fino a un certo punto, io sono qui nel bene e nel male, si critica quando c'è da criticare, si erogia quando c'è da alloggiare, ma a prescindere, l'Inter si difende e si ama sempre. E sentire sempre cavolate, dopo un po' stufa. Ovvio, io non è che mi vado a vedere tutti i video perché non c'ho tempo e manco mi interessa. Però sapete benissimo, c'è un canale che li mette degli spezzoni tutti insieme, sapete benissimo, io lo seguo, mi diverte, complimenti a lui per quello che fa. E quindi lì, poi, da lì, vedo qualche spezzone, vedo le cavolate che dicono e magari mi vado a vedere qualche video. Allora, a parte che non capisco per come mai quando c'è l'Inter c'è sempre quei due video in più, quei 4-5 minuti in più e quando succede altre squadre no. Vabbè, comunque, magari l'impressione è mia, ma io ho notato che quando l'Inter pareggio perde c'è molto di più rispetto alle altre squadre. Un'altra cosa, questi sono consigli, un'altra cosa, ma in mezzo a tutti questi quacquara qua, ma ci mettiamo ogni tanto in mezzo uno che sa parlare di calcio? Per l'amor di Dio, siamo su YouTube, ci sta, like, visualizzazioni, quelli che sparano cazzate sono quelli che vanno di più, o che fanno i pagliacci, che sparano cavolate, eccetera. Però ogni tanto, uno in mezzo a stamandria lo possiamo mettere che sa parlare di calcio? Ce ne stanno di canali, ce ne stanno, a me piacciono tantissimo Hermes e Passione Inter. L'ho visto nell'ultimo video, l'ho visto nelle reaction, ma sempre così, cioè, quando non serve, diciamo, mettiamoli un po' più spesso come facciamo con altri, loro che sono bravi, sono bravi, danno informazioni, eccetera. Anche come consiglio a voi, io vedo gente che spara a zero, ci sta nel post partita, perché è a caldo, e lì si sparano tante minchiate, ragazzi, perché è a caldo, si è arrabbiato. Io però poi faccio le pagelle il giorno dopo, dove analizzo se ho una mente fredda, mente lucida, eccetera, 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 cerco di essere obiettivo e quant'altro. Perché, per esempio, in questa partita l'arbitro ha fatto il casino più assoluto, però poi bisogna vedere la prestazione della squadra, che andremo a vedere con le pagelle. Quindi a caldo si dà la colpa solo all'arbitro, che è stato fondamentale, però poi bisogna vedere anche come si è giocato noi, e dopo lo vedremo. Ma in altri, invece, ce l'ho con quello, è sempre colpa di quello, ce l'ho con quello, è sempre colpa di quello. Non si sa analizzare, non si capisce, io posso capirlo da chi non ha mai calcato un cazzo di campo di calcio, che non sa manco come è fatto un allenamento, come si gestisce la forma fisica, ma da chi ha calcato il campo di calcio? Ma porca troia, ma riuscite a ragionare un attimo e fare un attimo un'analisi? Io lo dico per voi, chi fa, io come consiglio che posso dare ai miei iscritti, seguite anche chi fa il pagliaccio, chi spara a zero, ma non prendetelo sul serio. Guardate queste persone solo per farvi dorisate e divertirvi. Se però volete informazione, prendete sul serio altri tipi di canale, come i due che ho citato prima, molto bravi e competenti. Posso metterci anch'io, magari non so parlare bene come loro, eccetera, eccetera, però dico sempre la mia, anche sulle informazioni che ci sono, quelle sono veritiere, cerco sempre di analizzare. Poi le opinioni possono essere diverse, secondo me prende sei, secondo te prende cinque, secondo te doveva giocare, secondo me no, ci sta, siamo tutti diversi. Però c'è un dialogo senza fare i pagliacci, sparando a zero, rompendo cose, eccetera. Ho visto alcuni prendersi da con Gagliardini e metterlo nel titolo. Gagliardini è inguardabile, sia chiaro. Però ieri vogliamo dare la colpa a Gagliardini? Diamo le colpe a chi cede a dare le colpe. Quindi questo, semplicemente che non voglio fare i nomi, anche perché non mi va, però tanto sapete, perché tanto sono quelli che vanno sempre su quel canale, che ripeto, faccio i complimenti perché mi diverte molto, giusto un paio di appunti ho voluto farteli, come consiglio. Non so neanche se vedrà il video, però questo è. Per quanto riguarda quelli là, ragazzi, seguiteli giusto per ridere, perché non capiscono un cazzo di calcio. Le posso dire, magari non capisco un cazzo anche io, però loro insieme a me, se io non capisco di calcio, loro ancora peggio. Perché io almeno cerco di analizzare. Comunque, detto questo, seconda parte del video, pagelle. Iniziamo subito, perché Onana, sei e mezzo, ha fatto un paio di uscite ottime. Nel finale addirittura ha fatto con uscita, e rischiavamo di andare sotto, ragazzi, rischiavamo di andare sotto. I gol non sono colpa sua, perché sono stati messi entrambi all'angolino, non ci ha potuto fare niente, un paio di uscite fatte bene. E il solo 6 e mezzo lo porta a casa, ragazzi. Purtroppo non ha potuto fare niente dei gol, quindi c'è poco da dire su Onana. Skriniar. Skriniar gli dà un 6, ma è un 6 molto risicato. Un bellissimo striscione per lui. Chissà cosa avrà pensato. Io mi aspetto da Skriniar, sotto l'aspetto contrattuale, che sia il più chiaro di così, perché io da Skriniar mi aspetto che se vuole andare via, ok, vuoi provare una nuova esperienza? Prova una nuova esperienza. Ma, ma, non a zero. Perché l'Inter ti ha fatto crescere, l'Inter ti ha dato tanto, e come minimo, se vuoi andare via, vai via in estate, facendo portare all'Inter qualcosa come cassa. almeno come segno di riconoscenza, senza fare lo stronzo e andare via a zero. Quindi, caro Skriniar, vuoi andare via? Ci sta, però non a zero. Come segno di riconoscenza. Come ha fatto Bremer, che ha rinnovato col Torino, per poi andare via. Così da far avere al Torino il potere, il coltello della parte del mango, come si suol dire. Cosa che è successo? Skriniar, fare lo stesso. Poi, ti metterai d'accordo, vuoi andare via? Va benissimo. Ma non a zero. Detto questo, ieri, non ha fatto una gara top, non ha fatto manco schifo, gli do un 6, ha fatto il suo, nei gol c'entra poco, quindi gli do 6. 6-0 ad Acerbi. Non ho voluto dargli il 5,5 perché comunque nel secondo tempo ha fatto anche bene, ha fatto un paio di interventi, ha fatto un paio di anticipi molto importanti. Aveva fatto anche il gol, mi pare. Non mi ricordo che aveva fatto gol, onestamente, quello annullato, ingiustamente. Non mi ricordo che l'ha fatto, sono onesto, non l'ho neanche rivisto, perché sennò mi saliva ancora di più l'incazzatura. Però, nel tiro di Ciurdi, lascia troppo spazio, non opponendosi bene. E chi dice che si perde lui la marcatura, non guarda bene le partite, perché non era solo la marcatura di Ciurdi, ce l'aveva Mighidenian. Mighidenian se l'è perso, è andato a Acerbi a contrastare, e non ha contrastato benissimo, perché non ha contrastato veramente male. Quindi, gli do un 6-0. Poi alcuni dicono del rigore, che onestamente è inesistente, ma ovviamente molti lo devono fare per i like, le iscrizioni, dei tifosi, di altre squadre, perché sennò, oh mio Dio, perdo iscritti, devo crescere, devo fare il leccaculo. No, non c'è nessun rigore, perché semplicemente c'è stato, lui la gamba ce l'aveva già impiantata al terreno, e quell'altro, nella corsa, è inciampato tra le gambe. Non c'è assolutamente niente, non ci sono state nemmoviore, perché è un episodio che non ci sta neanche, ma alcuni lo devono dire, perché devono prendersi like e iscrizione, il discorso che facevo prima. 6-0. Andiamo avanti, Bastoni, Bastoni il migliore dei tre, ragazzi. 6,5, sicuramente il migliore dei tre in difesa, quello che sbaglia meno, tra l'altro, fornisce un assist, quindi che devi dire a Bastoni, Bastoni ieri è stato il migliore dei tre, ha fatto meno errori, ha fatto un assist, questo. Darmian, Darmian 6,5, forse potrebbe dare anche 7, a dire la verità, però mi rimeto a 6,5. Bella la sua partita, bella partita, sia in fase offensiva, che in fase difensiva. Raga, è inutile dire, eh ma perché Dunfris, Dunfris, cioè ragazzi, ad oggi Darmian ti dà una sicurezza, che Dunfris non ti dà, appunto, dopo parleremo di Dunfris, Darmian sta facendo il suo, puoi dire che Dunfris attacca meglio, con Dunfris magari c'è più pericolo in avanti, ma Darmian, quante occasioni ha avuto con Napoli? Ha avuto le occasioni da gol? Sì, ieri, con la partita, ha fatto il gol, e prima del gol c'è stata un'altra occasione, che ha buttato via, quindi le occasioni, Darmian le crea, le ha, ha fatto pure gol, 6,5, bella partita di Darmian, peccato, che ha l'età che c'ha, e attenzione, perché di nuovo di Darmian è alle fasi finali, Barella, Barella è il down 6, meno pimpante del solito, ma alla fine il suo comunque lo fa, poi esce per forza di cose, per affaticamento muscolare, ho sentito, però diciamo che non c'è tanto da dire, il suo lo fa, ieri in centrocampo, tutto in difficoltà, ma questo grazie al gioco del Monza, erano ragazzi in una forma fisica incredibile, cioè correvano, hanno corso dal primo all'ultimo minuto, pazzesco, complimenti al Monza, poi c'erano guido un 6 meno, un meno perché rispetto a Barella, anche lui, come ho detto prima, il centrocampo non è stato niente di che, però c'erano guido, visto leggermente più in difficoltà, sempre grazie al Monza, ma più in difficoltà di Barella, ma bene o male, la loro partita è stata lì, c'erano guido uguale a Barella, ha dovuto uscire per un affaticamento, sperando che non sia niente di grave. Mi chiederanno, ragazzi, mi chiederanno, mi dispiace, mi tocca dargli 4 e mezzo, mi dispiace, c'erano pure al Fanta Calcio, 4 e mezzo, allora si perde la marcatura di Ciurria, nel primo gol completamente, ok, si perde proprio completamente la marcatura, poi si riprende un po', tiene dei buoni palloni, gestisce bene altri palloni, poi ragazzi, al novantatresimo fa una cosa inspiegabile, un sombrero in mezzo al campo, un sombrero in mezzo al campo, ma cosa ti passa per la testa, se al novantatresimo, io mi ricordo bene, la scena c'erano a Zrani, e Michiteran lì vicino, Michiteran poteva tenerla benissimo, poi la passavi anche a Slanio, la tenevi, andavi sulla bandierina, la buttavi, la facevi quel cazzo che volevi, ma non puoi, al novantatresimo, che mancano un minuto e mezzo, quanto manca un minuto e mezzo, massimo due, non puoi, con l'Inter che sta soffrendo, provare a fare un sombrero, ma cosa ti passa per la testa, uno della tua esperienza, poi regala la palla, c'è il gol, che poi andremo a vedere, anche Dunfris, però ma cosa ti passa, la bastava che tenevi palla, o la andavi sulla bandierina, o facevi quello che volevi, ma tenevi palla, la gestivi, un minuto, un minuto, quando era un minuto e mezzo, due, ma anche se poi la perdevi, comunque, non la perdevi in quel modo lì, facendo fuori sia te che a Slani, praticamente, la spazzavi, poi la recuperavano loro, va bene, poi a meno l'Inter era tutta dietro, messa bene, ma così, no, mi dispiace, mi chiedono, quattro e mezzo, Di Marco, sei meno, anche qui, una partita normale, ma in difficoltà anche lui, per questa, per questa partita incredibile del Monza, mi do un sei meno, potevo dargli sei, un po', anche lui come c'erano quelle barella, barella forse leggermente, ma poco poco di più, che gli toglie quel meno, non c'è tanto da dire anche su Di Marco, ragazzi, più o meno il centrocampo, ha fatto tutto schifo, tranne Darmian, Lautaro, Lautaro è l'unica fiammella, in questa partita, sette, ragazzi, ieri Lautaro, incredibile, cioè, gol, veramente di grinta, andando a rubargliela a Pablo Mari, cosa che poi stava per ripetere, non mi ricordo su chi, che stava per riprendere il pallone dopo, nel secondo tempo, non mi ricordo su chi era, poi ha preso il palo esterno, mannaggia, poteva essere la doppietta, il gol, nell'altro non mi ricordo di chi era, ma non era suo, grinta, non molla mai, mi ricordo su un pallone, che stava uscendo, tutti lo davano per uscito, e lui è andato a recuperarlo, c'è una grinta incredibile, Lautaro, ragazzi, ieri Lautaro l'unico, l'unico, e l'unico, che ha la sufficienza piena, vabbè, oltre anche a Darmian e Bastoni, Darmian, forse un po' più di Bastoni, ma comunque sono lì, Lautaro, però ragazzi, incredibile, incredibile, Dzeko, 5, 5, spreca una palla gol, poi esce, non fa niente, diciamo che, tutti dicono, una grande partita col Napoli, allora, io ricordo che col Napoli, anche lì, il primo tempo, non c'era Dzeko, mi ricordo, non era inesistente, nel secondo, è spuntato fuori, per il gol, che valsa la vittoria, cosa che in questa partita, non c'è stato, ma come col Napoli, a parte il gol, è stato un po' inesistente, poi, comunque ragazzi, c'ha la sua età, 36 anni, non puoi giocarle tutte, forse era meglio farlo riposare, sia lui che Lukaku, però dopo cosa facevi, mettevi Dzeko e Lukaku insieme, e ci poteva stare, magari mettevi Lautaro e Correa, qua, alcune cose vanno gestite, finché non si dipende la forma fisica, corretta, di tutti quanti, sia di Correa che, vabbè, Correa anche in forma, ma soprattutto di Lukaku, che dopo vedremo, forse Dzeko andava fatto riposare, potevi giocare a una punta, magari dietro alle spalle, un Mkhitaryan, e mettevi un Aslani in più a centrocampo, un Gagliattini in più a centrocampo, non so, un Gagliattini, non lo so, non lo so, comunque molto stanco, Dzeko, voto, 5, adesso andiamo a, chi sono i subentrati, belli voti, allora, Aslani, Aslani, 5 e mezzo, entra per un problema fisico di Cianoglu, non benissimo ieri, ci vuole più personalità, meno paura, perché se tu vuoi giocare all'Inter, e vuoi crescere, quando entri, devi sfruttare queste opportunità, ma devi avere personalità, Aslani, a mio parere, c'ha la personalità per poterlo fare, ma tu, Aslani, quando entri in campo, non devi avere paura, non devi avere le gambe che tremano, perché ho visto molte volte insicurezza, paura di sbagliare, ci sta, però serve qualcosa in più, qualcosa in più, 5 e mezzo, Gagliardini, Lukaku lo facciamo per ultimo, Gagliardini 5 e mezzo, tanti ho visto dagli 4, 4 e mezzo, ragazzi, ma Gagliardini cosa ha sbagliato ieri? Ma basta dare le colpe a cazzo di cane, perché si chiama Gagliardini, anche io non lo voglio più vedere, anche io non voglio più che tocchi il campo, anche io quando entri in campo, mi cago letteralmente addosso, ma non è corretto dare la colpa a Gagliardini, quando non ha colpe, non ha nessuna colpa ieri, quindi è inutile dargli 4, che cazzo è 4, 4 e mezzo a Gagliardini? Per questo vi dico, andate a seguire la gente che dà informazioni corrette, e non i pagliacci del cazzo. Ma guarda te se mi devo difendere Gagliardini, che mi sta pure sui coglioni. Questo vuol dire essere lucidi e obiettivi, a me Gagliardini non piace, non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere, ma non gli do 3, non gli do 4, perché non lo voglio più vedere. ieri non è stata colpa sua, ha preso il suo 5 e mezzo, come Aslani, perché anche Aslani ha fatto una partita del cazzo, quando è entrato lo stesso Gagliardini, ma non ha fatto niente, perché il sombrero non ha fatto lui, Caldi Rora non è saltato su di lui, il primo gol, lui non era manco in campo, che cazzo volete? Svegliatevi, mi girano veramente le valle. Ieri Gagliardini entra per un problema fisico di Barella, usato come sempre come capo espiatorio, perché non si sa analizzare una partita, e quindi ce l'ho con quello, si dà la colpa a Lugaku, ce l'ho con Inzaghi, ce l'ha la colpa a Inzaghi, Gagliardini è una pippa, si dà la colpa a Gagliardini. Queste sono le analisi, no, della maggior parte dei youtuber, incompetenti, incompetenti, mi dispiace, incompetenti. Poi ditemi quello che volete, sono incompetente anch'io, va benissimo, almeno io ho la lucidità di analizzare le cose. Poi c'è gente che dice Gagliardini, eh, io non voglio più vedere Gagliardini, ma si può mettere Gagliardini, e chi cazzo metti? Genio di sto cazzo, chi metti in campo? Chi metti in campo? Cianoglu e Barella, sono usciti, perché non ce la facevano più, affaticamenti muscolari, domani c'è Anoglu, farate anche degli esami per vedere. Chi metti? Non c'è Brozovic. Quindi togli Brozovic. Aslani è entrato in campo, e quindi Aslani è in campo. Dimmi, chi cazzo metti a centrocampo al posto di Barella? Chi metti? Non c'è nessuno. Brozovic non ce sta. Aslani è già in campo, rimane Gagliardini. Se uno sta male, c'è l'unico che rimane, l'ultima ruota del carro, è Gagliardini. Va messo per forza, vuoi o non vuoi, va messo, perché è l'unico centrocampista che c'è in rosa. Valentin Carboli non è un centrocampista per chi già se lo stesse domandando. E cambiare modulo non ha un cazzo di senso, perché non puoi cambiare moduli così a cazzo di cane. Ma queste cose, chi non ha mai calcato un campo di calcio, ha fatto un allenamento di tattico, qualcosa non lo sa. Pensano che sia FIFA che cambi il modulino e i giocatori si adattano. Non funziona così. Se proprio non lo sapevate. Dunfris, 5. mi ha rotto i coglioni. Chelsea, lo vuoi? Anche 50, oh, se vale 50 milioni, ma anche 40. Oh, pacchetto regale ve lo spedisco. A parte allora, ieri non contrasta bene Caldirola. Forse è pure autogol, sti cazzi. Non contrasta bene neanche Caldirola. In avanti, sulle ultime azioni, mi sembra che Andreva che ha sparato addosso al difensore. È troppo poco per essere titolare nell'Inter. È un buon giocatore, perché non è che è una pippa. È un buon giocatore. Ma all'Inter serve di più. Serve qualcuno con dei piedi migliori. Serve qualcuno che non sia così discontinuo e altalenante. Serve di più. Quindi, se questo qua, dopo il mondiale, come ho sentito, vale 50, 60 milioni, nel CS ci sta pensando, per l'amor di Dio, ma vendetelo pure a gennaio. Tanto ci abbiamo Darmiana e Bellanova. Vuoi che Bellanova faccia peggio? Per me, Bellanova può diventare addirittura più forte di Doomfist. Non dico che diventerà Achimito. Io, Doomfist è un buon giocatore. Bellanova può diventare meglio di Doomfist. Quindi, un buon giocatore meglio di Doomfist. Poi, se si rivelerà il campione del mondo, sono contentissimo. Non penso, ma vedremo, perché è giovane. Ma ne abbiamo tre di là, a destra. Darmiana è una sicurezza incredibile. Oh, c'è il Cessi che lo vuole. Via, subito, 50, 60 milioni, andale, andale, via, prendiamo qualcun altro, per l'amor di Dio, serve di più all'Inter. Gosens, Nantro, sei meno, entra nel finale, non fa un cazzo come la maggior parte delle volte, gli do sei meno. Però, come vedete, anche Gosens, io ho dato tanto che dico di venderlo, però non è che gli do 4. Anche Doomfist ho detto che lo venderei, ma gli ho dato 4, gli ho dato 5, perché sarebbe 5 e mezzo con Maslano e Cagliardini, non riesce a contrastare Caldirola che vale il gol, 5. Gosens è un altro che io avrei venduto già in quest'estate quando si è presentato chi era il Bayer Leverkusen e me l'avrei già dato. Perché non... allora per giocare, a mio parere, con questo modulo qui è meglio avere giocatori che hanno dei buoni piedi. Vedi Di Marco, vedi quello che era Perisic, vedi quando c'era Kimi che magari quei piedi non era il top assoluto, ma comunque è meglio di Doomfist e Gosens li ha, perché comunque riesce a fare molto meglio. Lo stesso Darnian ha migliori piedi Doomfist e Gosens che ci hanno... loro sono due quinti che vanno solo, secondo me, o a crossare e basta o a chiudere l'azione. Basta. Non sanno passare, non fanno... Cioè, hanno fisico, corsa e basta. Basta. E chiudono l'azione di testa. Finito. Non puoi fare un gioco, secondo me, con loro due. Quindi, anche Gosens lo vogliono in Bundesliga. Ciao! Ciao! Anche 20 milioni! Ciao! Ciao! Andiamo a prendere qualche giovane interessante di quelli forti. Poi ho sentito che se va via Duh Buchanan. Allora, Buchanan, quello canadese, ragazzi, è fortissimo. È un esterno di centrocampo. È un esterno d'attacco che puoi giocare, per esempio, nel Napoli, 4-2-3-1, ma non sa difendere, non è mica uno che difende, ma come? Non ascoltate queste cazzate giornali, eh? A meno che non si cambi modulo, si cambia allenatore, è un altro discorso. No, chi era? Lukaku? L'ultimo. 4. E sono anche buono. Lo dico, sono anche buono. Lo sapete quanto a me piace Lukaku come caratteristiche di giocatore, quello che ha fatto poi in un altro discorso. 4 sono buono, non ha fatto niente. penso che sia la prima volta dove io mi ritrovo un giocatore che non ha fatto una cosa buona o mezza cosa buona. Uno stop, una sponda, niente. Cioè, non ha fatto una cosa che io ricordi. Ed è difficile, non è mai successo. Per quello dico 4 sono buono. È molto indietro fisicamente. ma chi ha giocato a calcio? Lo può capire, altri no, perché molti sento dire Lukaku, mei patti chiari amicizia lunga, gne 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 gne. Oh, è stato fuori tre mesi, svegliatevi. Io me l'aspetto da chi non sa un cazzo che non ha mai giocato a calcio, ma da chi ha fatto allenamenti, cosa, io mi aspetto un po' più di lucidità mentale. Io, faccio un esempio mio, faccio il dirigente adesso, no? da una settimana ho ricominciato ad allenarmi insieme alla squadra dopo che per tanti mesi non ho fatto niente perché mi ero infortunato, ok? Muscolarmente. Ho ricominciato dopo tanti mesi ad allenarmi, fratello, riesco a fare uno stop perché sono pesante, pesante, proprio mi sento le gambe pesanti come da spostare dei macini. E chi dice, ma io posso capire gli stati ma gli stop non è condizione fisica, no, gli stop sono condizione fisica perché tu lo stop con cosa lo fai? Con le mani, lo fai con i piedi e le gambe. Se tu hai la gamba pesante che non hai il totale controllo, la totale sicurezza, sbagli anche gli stop perché non hai la padronanza al 100% e io ve lo posso dire perché io sono alto 1,93 peso più di 100 kg Lukaku stessa identica cosa quasi 1,90 mi pare 1,88 non mi ricordo pesa sui 100 kg o poco più e quindi io ve lo posso dire com'è altri non lo possono sapere sia perché non hanno mai calcato campi di gioco sia perché per struttura fisica non possono saperlo Lukaku ha fatto cagare ma non venite a dire perché è una pipa perché ha bisogno di tanto tempo e se lui non è pronto Inzaghi non lo mettere non lo mettere Lukaku 4 non c'è poco da dire è indietro di condizione fisica e non ce la fa non ce la fa Inzaghi 5 inutile dare 3-4 perché alla fine la formazione iniziale forse qualche cambio l'avrei fatto alla fine l'indifesa è corretta perché quelli sono devremmo non sta bene abbiamo visto che Darmian è meglio di Dufis ha fatto un'ottima partita quindi la scelta di Darmian su Dufis azzeccata al centrocampo Brozovic non c'è quindi quelli sui giocatori e ci stanno Di Marco ovviamente su Goses azzeccato Lautaro azzeccatissimo forse l'unico cambio forse l'unico cambio era Geico per chi per Lukaku non ho di sicuro anzi forse potevi anche mettere per Lukaku poi a fine primo tempo cambiavi magari riusciva a fare qualcosa in più Lukaku ma quali sono punti di domanda potevi mettere Correa Lautaro Correa Lautaro e magari mettevi Aslan e a centrocampo e Michi te l'han dietro la punta ecco quella è l'unica cosa che magari non mi è piaciuta perché Geico ha una certa età Lukaku non sta bene quindi vanno anche fatti girare però è l'unica cosa della formazione iniziale dei cambi Aslan è dovuto entrare per forza di cose Lukaku ci sta perché Geico ha fatto schifo poi Lukaku ha fatto peggio lì forse poi era meglio Correa ripeto ma Correa sta bene fisicamente perché anche lui è tornato dall'infortunio anche lì si poteva fare qualcosa magari si poteva fare qualcos'altro Gagliardini è dovuto entrare per forza di cosa anche lì perché Barrella non ci stava e poi ha cambiato Dufis perché Dermana ragazzi per chi ha visto la partita con gli occhi e non col culo non ce la faceva più era spompatissimo Gosens per Di Marco è un cambio comunque al solito ci sta non ha fatto niente di male quindi i cambi alla fine non hanno inciso chissà cosa poi è vero ha sbagliato Dufis ma che c'entra con i zaghi che c'entra con i cambi è giusto mettere Dufis non ce la faceva più Darmian poi sono convinto che con Darmian in campo il gol non lo prendevamo perché secondo me Darmian riusciva a contrastare Caldirona meglio di Dufis ho in qualche modo l'esperienza arginarlo però se non ce la faceva più che cazzo devi fare se non ce la fa più devi cambiarlo non siamo su FIFA non siamo su FIFA ha fatto praticamente due cambi costretti e il terzo mezzo costretto perché Darmian era spompato eh Gekos stava a fa schifo e poi gol di Marco ok quindi i cambi diciamo non è che sono stati sbagliatissimi magari c'era qualcosa che si poteva migliorare quindi formazione iniziale più cambi diamo un 6 meno 5 e mezzo 6 meno ecco il punto principale non è la formazione dei cambi il punto principale è che tu non puoi farti palleggiare in faccia dal Monza vuol dire che l'allenatore del Monza l'ha preparata meglio di te e questo non è accettabile oppure che la scuola era così bassa e tu non riuscivi magari a trasmettergli la grinta giusta queste sono le cose che non vanno bene della partita di Inzaghi di ieri e per questo prende un bel 5 perché da una parte la formazione iniziale e i cambi sono anche corretti ok quindi il suo diciamo 6 6 meno da quella parte lo prende da invece come è messa in campo la squadra il lato grinta eccetera non l'ha dato prende un 4 e mezzo 4 e mezzo 6 quanto fa? 6 e 4 10 10 e mezzo e mezzo lo togliamo vaffanculo diviso 2 5 media c'è c'è poco da dire 5 per questo motivo raga questo è quanto adesso vediamo perché la vittoria con Napoli a questo punto sembra essere inutile ma vedremo vedremo adesso la Juve sta a più 3 quindi con la Juve non è niente di clamoroso sono 3 punti con il Milan vediamo perché comunque il Milan ha la Roma se dovesse perdere siamo a 2 punti abbiamo guadagnato un punto se dovesse pareggiare rimaniamo comunque a 3 punti se dovesse vincere un po' mi romperebbe il cazzo perché andremo a meno 5 di nuovo quindi vedremo se dovesse anche pareggiare comunque anche là siamo a meno 3 meno 3 da Milan meno 3 da Juve siamo lì il punto è il Napoli il Napoli siamo a meno 7 se non sbaglio potremmo andare a meno 10 anzi quasi sicuramente andremo a meno 10 10 punti sono tanti però c'è ancora tutto il girone di ritorno quindi lo scodetto è veramente difficilissimo vedremo ragazzi partita per partita detto questo un saluto e alla prossima ciao ragazzi ciao